Nel video acceneremo agli aspetti principali della filosofia di Benedetto Spinoza a partire dal concetto di sostanza. Che cos'è la sostanza per Spinoza? Egli definisce la sostanza come ciò che è in sé e si concepisce per sé. La sostanza per Spinoza coincide con Dio. Dio, sostanza, natura, sono per il filosofo olandese termini sinonimi. Ma che cosa significa che la sostanza è ciò che è in sé e si concepisce per sé? Questa affermazione che costituisce la terza definizione dell'etica ordine geometrico demonstrata si comprende alla luce del primo assioma. Il primo assioma afferma che tutto ciò che è o è in sé o è peraltro. ciò che è in sé è causa di sé. Non ha dunque la causa della propria esistenza al di fuori di sé in un altro ente, ciò che è peraltro, al contrario, ha la causa della sua esistenza al di fuori di sé. Quindi la sostanza, in quanto è ciò che è in sé, è anche causa di sé, è causa sui, dice Spinoza nella prima definizione. essendo causa di sé è anche ciò che si concepisce senza riferimento ad altro. per sé concipitur, la sostanza è ciò che si concepisce per sé, per sé concipitur, significa appunto che per intendere il concetto della sostanza io non devo fare riferimento a un altro concetto. quindi l'idea della sostanza non ha bisogno di un'altra idea affinché io la formi in una mia mente. ora, a parte queste definizioni un po' generali, piuttosto astratte, diciamo così, ma che hanno tuttavia la loro profondità teorica, quindi noi qui parliamo in generale per sommi capi dei fondamenti teorici dell'etica di Spinoza, a parte ciò noi diremo che la sostanza corrisponde alla divinità, la sostanza corrisponde a Dio, Dio corrisponde alla natura, Deus, Sive, Natura, Dio, ovvero la natura, dice Spinoza. ora, in questa affermazione, in questa tesi, che la sostanza si identifica con la natura, e dunque si identifica con Dio, i contemporanei di Spinoza hanno trovato qualche cosa di blasfemo, sia i membri della sua comunità, i rabbini della sinagoga, sia i cristiani, cattolici e protestanti che fossero, e hanno evidentemente rigettato questa tesi che Dio e la natura siano in fondo la stessa cosa, proprio perché il presupposto delle religioni monoteiste, ebraiche e cristiane è che Dio è trascendente dalla natura e che Dio è distinto dalla natura come il creatore è distinto dalla creatura. ma un'altra tesi forse ancora più inaccettabile era quella della impersonalità di Dio per Spinoza Dio che è appunto la totalità di tutto ciò che è non può essere concepito come un essere personale perché questo vorrebbe dire abbassarlo vorrebbe dire antropomorfizzarlo cioè dare di Dio un'immagine simile all'uomo ma Dio è al di là in un certo senso dell'uomo Dio è ciò da cui l'uomo dipende ma che non può essere descritto con le stesse caratteristiche dell'uomo quindi la volontà la bontà infinite che siano non sono di per sé attributi di Dio ma pur rientrando, diciamo così nelle manifestazioni divine come tutto ciò che esiste non possono tuttavia essere utilizzati questi termini queste caratteristiche tipicamente umane per descrivere la sostanza divina per descrivere Dio quindi il Dio di Spinoza non è un Dio personale non è il Dio che parla che si rivolge direttamente all'uomo del Vecchio e del Nuovo Testamento ma è un ente appunto che raccoglie in sé la totalità di tutto ciò che è e le manifestazioni le infinite manifestazioni del mondo costituiscono i modi di Dio le manifestazioni della sostanza come natura naturata mentre Dio natura naturante costituisce l'essenza di queste manifestazioni ma sia l'essenza sia le manifestazioni rientrano diciamo così nella unicità della sostanza nella unicità di Dio che è uno e molteplici al tempo stesso ora ciò che ci interessa sottolineare per comprendere l'etica di Spinoza che è sicuramente la parte più rilevante del pensiero di questo filosofo tutta la sua costruzione teorica è indubbiamente rivolta a costruire un'etica dicevo ciò che è più rilevante è il fatto che il mondo viene concepito da Spinoza come appunto un ordine geometrico il modello a cui Spinoza si richiama e che utilizza per scrivere la sua opera principale appunto l'etica ordine geometrico dimostrata è il modello degli elementi di Euclide è il modello geometrico che trova la sua più nota e più alta manifestazione appunto nell'opera di questo matematico del terzo secolo avanti Cristo Euclide e sono appunto gli elementi di geometria negli elementi di geometria tutta la costruzione teorica di Euclide si basa su delle affermazioni che sono rigorosamente collegate l'una all'altra nozioni comuni definizioni assioni e attraverso questa catena di ragionamenti Euclide dimostra i teoremi della geometria adottando questo modello che era molto in voga nel 600 e Spinoza intende fare la stessa cosa nei riguardi dell'etica quindi intende costruire un'etica che sia assolutamente chiara assolutamente indubitabile che non abbia in sé alcun lato scuro e le cui conclusioni siano rigorosamente dedotte da alcuni postulati che egli enuncia all'inizio dell'opera anche l'etica di Spinoza è diciamo così fatta di definizioni di assiomi di proposizioni di scoli di corollari esattamente come l'opera di Euclide alcuni hanno detto che questa questa struttura costituisce un po' una camicia di forze dentro cui Spinoza ha costretto il suo pensiero ma ad ogni modo quello che importa sottolineare è appunto il fatto che il mondo la realtà e dunque è anche l'uomo che agisce nel mondo le azioni umane i desideri le passioni sono strettamente collegate le une alle altre che tutto ciò che accade nel mondo accade per una necessità rigorosa che non lascia spazio al libero arbitrio e questo è un altro punto che evidentemente non poteva essere accettato dalla religione in particolare dal cattolicesimo ma anche dalle altre confessioni che più o meno lasciano un qualche spazio all'iniziativa dell'uomo dunque Spinoza nega in maniera decisa radicale il libero arbitrio nega che l'uomo possa con un atto libero della sua volontà cambiare l'ordine delle cose l'ordine delle cose in un certo senso è già stabilito ab eterno così come non è possibile cambiare un teorema di geometria così come il triangolo avrà sempre le stesse caratteristiche allo stesso modo tutta la struttura dell'universo tutto ciò che accade nell'universo è governato da una rigida necessità simile alla necessità che da certi postulati ricava le dimostrazioni della geometria ebbene come si concilia l'affermazione di questa necessità con la libertà di cui pure Spinoza parla nell'etica e di cui egli stesso si fa difensore compresa la libertà politica la libertà per Spinoza non è altro che il riconoscimento della necessità che regge tutto l'universo non è altro che il riconoscimento dell'ordine geometrico dell'universo la libertà è conoscenza sostanzialmente è consapevolezza di questo ordine dunque il concetto che Spinoza ha della libertà lo possiamo riassumere nella parola consapevolezza conoscere veramente l'ordine necessario dell'universo significa in qualche modo essere liberi liberi dall'ignoranza liberi dal pregiudizio liberi dall'errore che consiste nel credere in qualche cosa che non è nell'ingannarsi intorno alle cose dunque l'unica libertà che è alla portata dell'uomo non è tanto il libero arbitrio inteso come possibilità che l'uomo ha di cambiare il suo destino di scegliere liberamente se agire in un modo o agire in un altro modo non è questo non è questa la libertà di cui parla Spinoza non può essere questa perché come abbiamo detto poco fa per Spinoza il libero arbitrio non esiste il libero arbitrio è soltanto un'illusione dell'uomo che crede di poter modificare il proprio destino che crede di conoscere le cause ultime delle sue azioni che in realtà non conosce perché la catena delle cause che determinano il comportamento dell'uomo è infinita e dunque l'uomo con il suo debolo intendimento non può pretendere di conoscere le infinite ragioni che determinano il suo carattere che determinano il suo comportamento che lo portano a desiderare una cosa anziché l'altra e questa ignoranza delle cause fa sì che l'uomo abbia l'illusione di essere libero cioè di poter scegliere volontariamente il suo destino di poter determinare volontariamente il suo comportamento ma egli non si rende conto che questa sua volontà in realtà non dipende da lui e tuttavia ripeto vi è una libertà questa sì non illusoria questa sì reale una libertà l'unica libertà che è alla portata di l'uomo che è quella della filosofia che cioè il retto intendere è l'uso della ragione in un certo senso per Spinoza la ragione rende liberi chi è in grado di usare rettamente la sua ragione è libero e l'uso più alto della ragione è esso stesso un affetto è esso stesso un come dire una un'azione e Spinoza usa l'espressione amor dei intellettualis l'amore intellettuale di Dio la conoscenza non è altro diciamo così la passione per la conoscenza la tensione verso la conoscenza di sé del mondo non è altro che una tensione verso Dio perché conoscere se stessi conoscere il mondo dal momento che noi siamo una manifestazione della sostanza cioè di Dio dal momento che tutte le cose non sono altro che modi della sostanza e quindi sue manifestazioni finite ecco conoscere se stessi e conoscere il mondo significa conoscere Dio ma questa conoscenza affinché ci renda liberi deve essere una conoscenza adeguata e qui Spinoza parla appunto della differenza che passa tra le idee adeguate che noi ci facciamo delle cose e le idee inadeguate ora farsi un'idea adeguata delle cose significa anche in qualche modo come dire obbedire a quella conatus sese conservani di dice Spinoza a quell'istinto di conservazione che è presente in ogni essere per cui noi tendiamo a conservare noi stessi più a lungo possibile quindi tendiamo alla felicità la felicità per l'uomo non è altro che un conatus una tendenza verso l'autoconservazione e questa autoconservazione coincide appunto con una condizione ottimale dell'essere umano con una condizione serena felice per quanto è possibile per quanto è possibile ma per raggiungere questa felicità questa serenità dell'animo che è appunto la saggezza a cui la filosofia ha sempre ispirato occorre usare la propria ragione occorre conoscere rettamente il mondo occorre conoscere Dio occorre dunque farsi delle idee adeguate delle cose facciamo un esempio che ci può aiutare a capire se io mi offendo perché qualcuno mi ha fatto un torto dimostro dimostro di avere un'idea inadeguata di quello che è accaduto dimostro quindi di non aver compreso di non aver fatto un buon uso della mia ragione perché perché colui che mi ha fatto un torto non poteva agire diversamente quell'accadimento quell'offesa quel comportamento non poteva essere diverso da quello che è stato dal momento che ogni accadimento obbedisce ad un ordine necessario dal momento che dietro ogni accadimento c'è tutta una serie di cause che la mia volontà non governa che la volontà umana non governa ma cura volontà umana in qualche modo soggetta e allora evidentemente se io penso che chi mi ha fatto un torto poteva anche non farmelo tendo ad attribuirgli una responsabilità che non ha tendo ad attribuirgli una volontà diciamo così di far del male da cui da cui egli poteva anche astenersi ma per Spinoza non è così e allora qual è la conseguenza del fatto che io finalmente ho capito che quella persona non poteva agire diversamente non poteva quindi evitare di commettere un'ingiustizia nei miei confronti la conseguenza è che io in qualche modo non soffro più di tanto del torto ricevuto non me la prendo più di tanto mi faccio un'idea adeguata di quanto è accaduto e questa idea adeguata mi porta in qualche modo a rasserenarmi a non prendermela più di tanto a non offendermi perché capisco che quanto è accaduto non poteva essere evitato chi pensa chi si offende dimostra in questo senso di non aver capito attribuendo all'uomo la libertà il libero arbitrio quindi attribuendo la possibilità di potersi astenere da ciò da cui non si è astenuto io sostanzialmente mi inganno intorno alla realtà commetto un errore non capisco bene mi faccio un'idea inadeguata di quello che è accaduto e di conseguenza tendo a prendermela a offendermi a in un certo senso a farmi cattivo sangue di fronte a un'azione che in qualche modo mi ha danneggiato e quindi tenderò a provare odio risentimento desiderio di vendetta nei confronti di quella persona e dunque starò male e questo star male mi porterà a compiere magari delle azioni ai danni di quella persona che in un certo senso peggioreranno la situazione del mondo come quando appunto si dice che il sangue chiama sangue la vendetta chiama vendetta possiamo allora forse dire a conclusione di questa nostra chiacchierata che l'etica di Spinoza è tutta volta a quel fine supremo della migliore filosofia di tutti i tempi che è la saggezza la saggezza che dovrebbe favorire la pacifica convivenza degli uomini e preservare la vita su questa terra saggezza di cui oggi vi è un urgente bisogno proprio perché il pericolo di una distruzione totale della vita su questo pianeta è ormai un pericolo incombente di un pericolo di un pericolo di un pericolo di un pericolo